Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Pastorelli, vice direttore generale direzione del sistema paese, per chi non mi conosce, sono molto contento di essere qui con voi, voglio ringraziare non solo l'ufficio nono di Alessandro Tognonato per l'organizzazione di questa iniziativa, ma apre tutti gli addetti scientifici presenti tra oggi e domani e anche i rappresentanti del mondo privato e della ricerca italiana che hanno voluto aderire a questa iniziativa. Molto importante perché questo è un dialogo, un dialogo a due vie, noi ascoltiamo voi, voi ascoltate noi per lavorare insieme per il bene del paese ed è uno dei seguiti che avevamo fissato alla conferenza degli addetti scientifici e spaziali che si è tenuta a Padova nel marzo scorso. Vogliamo sempre di più che questa preziosissima rete composta da 50 professionisti sia un valore raggiunto per il paese e quindi noi siamo all'estero, dislocati in tanti paesi del mondo per lavorare insieme e promuovere la ricerca italiana, favorire la mobilità, attrarre talenti e dare un contributo anche per trasferire conoscenze dal mondo della ricerca e dell'università a quello dell'impresa con l'obiettivo di stimolare la crescita del nostro paese e la collaborazione internazionale perché come sapete la ricerca è anche un importantissimo elemento dei rapporti internazionali su cui questo ministero punta con forza. Lo dimostra il fatto che la rete degli addetti è cresciuta negli ultimi due anni da 29 a 50 e noi auspichiamo che cresca ulteriormente. Quindi grazie per queste due giornate di lavoro, di confronto e passo la parola ad Alessandro Antonio Nato, il capo dell'ufficio nonno della DGSP che si occupa di collaborazione scientifica bilaterale. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, grazie per esservi connessi, a tutti i partecipanti che ho visto essere molto numerosi, abbiamo circa 200 iscritti. Un'enorme grazie a Marco Falzetti e a Mathilde De Bonnest anche da parte mia e ai nostri addetti scientifici che si sono preparati per questa giornata in modo molto propositivo per condividere dei contenuti estremamente interessanti. Una piccola premessa, la diplomazia scientifica è inserita al Ministro degli Affari Esteri nella Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese per quale motivo? perché grazie alla scienza, alla tecnologia, all'innovazione siamo convinti che possiamo dare un contributo fattuale al potenziamento della nostra crescita, quindi a favore delle imprese, a favore dell'industria italiana e a favore dei nostri enti di ricerca che hanno un livello di eccellenza che va valorizzato nel mondo, che va ulteriormente rafforzato grazie alle collaborazioni con i più grandi partner internazionali, anche nell'ottica di attrarre in Italia investimenti, di attrarre ricercatori di eccellenza, di attrarre idealmente infrastrutture di eccellenza. Siamo qui oggi quindi per analizzare assieme come rafforzare la cooperazione internazionale, investimenti del settore della ricerca e dell'innovazione, grazie a 6 sessioni che coinvolgeranno gli attori italiani a 360 gradi sia nel settore pubblico che in quello privato e l'obiettivo spiegabilmente è di creare nuovi contatti, quindi coloro che partecipano potranno poi raggiungerci per approfondire opportunità di collaborazione o per fare delle domande di approfondimento, naturalmente per fare il sistema perché soltanto conoscendo quello che l'Italia, sia a livello di centri di ricerca, a livello di università, a livello di imprese, startup, può offrire, possiamo tutti assieme meglio valorizzare quello che è il nostro sistema all'estero, quindi tutti assieme riusciamo chiaramente ad avere un valore aggiunto che da soli non sarebbe sufficiente a raggiungere certi livelli. E poi chiaramente siamo qui per raccogliere spunti e informazioni, infatti sono anch'io armata di matite per gli appunti perché ogni opportunità di incontro con Apre, con la nostra comunità scientifica, con la rete degli addetti, con le imprese che lavorano nel settore della ricerca e dell'innovazione, offre nuove idee, nuovi spunti di collaborazione, nuovi spunti per creare dei contatti anche con partner all'estero, su quello che sia che possiamo offrire che possiamo cercare grazie alla cooperazione internazionale. Quindi fermo, buon lavoro, grazie. Grazie a voi, do a questo punto la parola all'ingegner Marco Falsetti, direttore di Apre. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene. Intanto un ringraziamento va sicuramente agli amici del Maeci, al dottor Pastorelli e alla dottoressa Tognonato, perché ci ritroviamo ormai dopo tanti anni in questo rapporto di collaborazione che abbiamo con il Ministero e che per noi è un qualcosa che ci fa molto piacere, non solo perché c'è una relazione istituzionale importante con un Ministero importante, ma soprattutto perché c'è una storia dietro a quella che è un po' anche questa relazione tra noi e il Ministero sulla cooperazione internazionale, che nasce in realtà da una visione diversa. Il Maeci, quando parla di cooperazione internazionale, ha una visione a 360 gradi. Noi ci siamo avvicinati e da questo poi è nato un rapporto con il Ministero, evidentemente da una prospettiva che era quella europea. L'Europa ha una sua politica di cooperazione internazionale per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione e che non individua evidentemente tutta quella che è la dinamica di cooperazione internazionale che può avere il Ministero anche in campo di cerca e innovazione, perché evidentemente questo non comprende le questioni dei bilaterali che invece sono il pane quotidiano chiaramente per il nostro Ministero. Ma quello che è importante era farvi capire che in qualche modo, anche entrando da una porta secondaria che è quella dell'Europa, ci ritroviamo a parlare delle stesse cose e soprattutto è importante, questo non lo dirò io, lo dirà sicuramente il professor Donato più tardi e in varie occasioni, perché so che Fabio è stato richiamato a dover fare più interventi nell'arco di questi due giorni e lo ringrazio moltissimo per questa disponibilità. Ma insomma ci sarà una lettura del concetto di cooperazione internazionale, di diplomazia scientifica che parte anche da una lettura europea e che può ispirare un certo tipo di ragionamento. Dico questo perché, ripeto, noi come soggetto nazionale apre, non abbiamo un nostro posizionamento, un nostro ruolo nell'ambito per esempio di quello che è la collaborazione bilaterale tra l'Italia e qualunque altro paese, ma in realtà ormai molto spesso, ci è accaduto proprio in sinergia con il Ministero, con molti di voi, con alcuni addetti scientifici, di organizzare spesso eventi che partendo da un'idea di collaborazione quindi di strategia bilaterale con un certo paese, si sono arricchiti anche dalla componente europea, cioè si è andato a ragionare tra l'Italia e un altro paese all'interno magari di un evento organizzato da noi insieme al Ministero, insieme alla rappresentanza di quel paese, per parlare di cooperazione internazionale a 360 gradi avendo anche un occhio chiaramente su quello che è la dimensione europea, perché sapete benissimo che ci sono solo delle politiche di cooperazione internazionale all'interno dell'Unione Europea, su ricerca e sviluppo, chiaramente io sto parlando di tipo centrale, ma ci sono anche tutta una serie di poi messe a terra all'interno dei vari programmi, quindi tematicamente declinati, con tantissime interessanti aperture verso diverse aree geografiche. Questo è quello che in parte poi, credo, anche nell'occasione di queste giornate, queste due giornate, quindi nelle varie sessioni, sarà opportuno approfondire. Io mi fermo qui perché in realtà già la dottoressa Tognonato e poi sicuramente adesso la dottoressa De Bonis vi racconterà meglio come si struttura le due giornate e lo faranno sicuramente meglio di quanto potrei farlo io adesso. Vi lascio e vi ringrazio, ringrazio anche tutti i speaker che in qualche modo si susseguiranno in queste due giornate e soprattutto, ribadisco, siamo molto contenti di avere interpretato anche questa evoluzione, perché se ci pensate, chi di voi ha seguito anni fa questa giornata degli addetti scientifici aveva un formato diverso da quello che c'è stato negli ultimi anni, ma soprattutto da questo ultimo anno che l'ha visto rinnovare ancora il formato. Bene, questo secondo me è anche un ottimo indicatore di freschezza e di importanza dell'evento che in qualche modo non rimane radicato a un concetto, ma nei salvaguardi a quelli che sono sicuramente tutti i valori fondanti. Poi lo si rinterpreta evidentemente alla luce di quello che l'evoluzione comporta. Matilde, io mi fermerei qua e lascio a lei la parola e buona prosecuzione di questi due giorni a tutti quanti. La ringrazio ingegnere, la ringrazio molto e approfitto per dare anche da parte mia chiaramente il benvenuto ai partecipanti e per ricordare loro che per qualsiasi domanda per le sessioni di Q&A è attiva in Webex appunto la chat. Come abbiamo capito, si tratta di queste due giornate, oggi e domani, nelle quali abbiamo voluto proporre sei sessioni di incontri online con le addette e gli addetti scientifici e spaziali del Ministero. Sei sessioni che avranno luogo, quattro nella giornata di oggi, a seguire a questa dedicata alle organizzazioni internazionali, seguiranno la sessione Africa, la sessione Europa e la sessione Spazio. E domani, a partire dalle nove, nella mattinata avremo la sessione Asia, Australia e Oceania e a seguire la sessione America. Per ciascuna sessione qui potete trovare anche un QR code che direttamente vi riporta al programma aggiornato delle due giornate e che quindi vi consentirà di tenere traccia degli interventi che saranno davvero numerosi. Ciascuna sessione, chiaramente dopo un avvio istituzionale di introduzione ai lavori, sarà aperta in quasi tutti i casi dal prezioso intervento del professor Donato sulla presentazione delle opportunità europee. Seguirà la sessione di presentazione delle addette e degli addetti scientifici e spaziali che presenteranno appunto le opportunità anche loro, le prospettive della cooperazione bilaterale nelle diverse aree di interesse. E poi avremo in taluni casi anche una sessione dedicata ai testimonial di una cooperazione bilaterale di successo, con appunto esponenti dei principali centri di ricerca italiani che hanno partecipato e hanno in piedi progetti di scienza e tecnologia con le aree di riferimento. E poi appunto l'incontro con la comunità RNA italiana si concretizzerà all'interno di queste sessioni di pitch dal mondo della ricerca italiana. Sessioni in cui abbiamo voluto raccogliere appunto gli attori RNAi della comunità di ricerca italiana che interverranno in cinque minuti in maniera molto efficace presentando le loro organizzazioni, i punti di forza delle loro organizzazioni, la loro idea di collaborazione in fondo con le aree di riferimento nelle rispettive sessioni. Alcuni numeri in queste due giornate di incontri chiaramente saranno con noi 37 tra le addette e gli addetti scientifici e spaziali presso le sedi diplomatiche all'estero del Ministero e dal punto di vista del coinvolgimento della comunità di ricerca e innovazione italiana siamo riusciti a raccogliere in queste due giornate 55 interventi rispettivamente 36 relatori che per la maggior parte provengono dal settore dell'accademia ma anche dell'industria, dal settore diciamo delle PM innovative e poi chiaramente una buona quota dei centri di ricerca più rilevanti a livello nazionale. Mi preme segnalare fin da ora quelli che saranno i next step per i partecipanti a beneficio della comunità di ricerca italiana e poi anche degli stessi addetti all'estero nelle loro aree di operatività metteremo a disposizione questi open matchmaking tool, ossia degli strumenti in grado di effettivamente creare il luogo fisico dell'incontro tra i ricercatori italiani e gli innovatori italiani e gli attori della ricerca dell'innovazione nelle aree di interesse. Quindi questi strumenti saranno messi a disposizione dei partecipanti di oggi e chiaramente degli addetti che saranno chiamati poi a disseminarli all'interno delle aree di loro interesse proprio per favorire l'incontro e lo scambio di esperienze per la creazione di nuove partnership sulla base di aree di comune interesse e chiaramente di interesse strategico per l'Italia nel campo della scienza e della tecnologia. Tre semplici passi per accedere poi ad un database di contatti chiaramente in linea con il rispetto e il trattamento dei dati secondo la nostra privacy policy e quindi per riuscire sostanzialmente a raggiungere gli enti di nostro maggiore interesse ed avviare cooperazioni di successo. A questo punto mi taccio e do la parola al professor Fabio Donato consigliere scientifico della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea. Fabio Donato a lei la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno da Bruxelles, dalla rappresentanza permanente d'Italia all'Unione Europea. Innanzitutto davvero un sentito ringraziamento al dottor Pastorelli, alla dottoressa Tognonato per questa opportunità per dare seguito all'importante evento che si tenne alcuni mesi fa a Padova. Un ringraziamento a Apri, al direttore Fazzetti per l'attività di supporto sempre preziosa da parte dell'Agenzia e consentitemi anche un saluto molto cordiale, molto affettuoso agli amici e colleghi e addetti scientifici e spaziali e naturalmente un sentito buongiorno a tutti i partecipanti. Il lavoro in rappresentanza permanente, come le altre sedi multilaterali, è un pochino differente rispetto a quello delle sedi bilaterali. Qua l'addetto scientifico, il consigliere scientifico non svolge un ruolo di promozione ma sostanzialmente svolge un ruolo di negoziato, negoziato tecnico che poi arriva al livello superiore degli ambasciatori per poi essere portato alla discussione e approvazione da parte dei dei ministri. Peraltro proprio ieri abbiamo avuto il consiglio competitività a parte ricerca con l'approvazione di importanti conclusioni del consiglio e con dibattiti politici davvero di di alto livello. Ringrazio per l'opportunità di poter intervenire in in diversi ambiti, in diverse sessioni e quindi dare il quadro delle opportunità europee focalizzate per diverse aree geografiche. A questo stadio darei la cornice generale delle delle opportunità. Le opportunità a livello Unione Europea per ricerca e innovazione si raggruppano in due macroambiti. Il primo ambito è quello del programma di ricerca e innovazione europea o Reiso Europe. Il secondo ambito riguarda invece l'attuazione degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione Europea, quindi non i singoli Stati membri, tra l'Unione Europea e diverse soggetti e diverse aree geografiche mondiali. Per quanto riguarda Oraiso Europe abbiamo tre diversi livelli di potenziale interesse. Il primo livello riguarda tutti coloro che operano all'interno di Stati membri. Nel caso degli Stati membri, come è evidente che sia l'accesso a Oraiso Europe è un accesso pieno senza limitazione alcuna e con la possibilità di partecipare ai bandi sia in forma monobeneficiaria sia nell'ambito invece di consorzi, quindi di rapporti collaborativi più ampi, a seconda naturalmente delle tipologie di call di bandi di finanziamento. La seconda invece, chiamiamola macro categoria di opportunità, deriva dalle possibili attività di ricerca e innovazione, quindi relativi finanziamenti, da svolgersi in paesi che non siano stati membri ma che sulla base di una precisa procedura e sulla base quindi dell'esito positivo della conclusione di tale procedura si siano associati a Oraiso Europe. In questo caso quindi sono dei paesi terzi, non sono stati membri ma attraverso l'associazione sul piano finanziario le opportunità e le prerogative degli stati membri sono sostanzialmente assimilate a quelli, scusate, dei paesi associati sono sostanzialmente assimilate a quelli degli stati membri. Vi sono delle piccole differenze importanti a livello politico, tanto per intendersi quando il programma di lavoro con i bandi di finanziamento e i relativi specifici finanziamento vengono approvati, solo gli stati membri hanno un diritto di voto e anche sul piano tecnico di finanziamento, a partire da Oraiso Europe, alcune bandi, alcune call di rilievo strategico europeo in virtù del principio della sovranità e autonomia tecnologico europea sono ristrette ai soli stati membri. Ma diciamo che in termini generali le opportunità tecniche sono sullo stesso piano per i paesi terzi associati rispetto agli stati membri. Infine, vi sono un'ulteriore categoria di paesi i quali non sono stati membri, non hanno svolto la procedura con esito favorevole di associazione, ma che sulla base di o specifici accordi o specifiche tematiche possono partecipare a Oraiso Europe. Sono i cosiddetti paesi terzi, ripeto, prescelti proprio caso per caso. Su Oraiso Europe l'ultima cosa che dico è quella forse più importante, cioè il budget. Oraiso Europe ha un budget di 95,5 miliardi di euro, è a livello mondiale il programma di ricerca e innovazione integrato più importante, più finanziato al mondo, che non significa che altri importanti layer non abbiano dei programmi di ricerca e innovazione o che cumulativamente non abbiano un finanziamento anche superiore, ma lo hanno distinto in programmi diversi. La grande forza di Oraiso Europe è proprio questa di essere un programma integrato all'interno del quale si può navigare anche in modo interdisciplinare e intersettoriale per le imprese, in modo tale da trovare i bandi e le opportunità di maggiore interesse. Ultimo punto a cascata su Oraiso Europe, il fatto che mentre tradizionalmente i programmi di ricerca e innovazione erano rivolti soprattutto al mondo della ricerca, già con il predecessore, Oraiso 2020, ancora di più con Oraiso Europe, il ruolo delle imprese è al pari livello, pari dignità, pari d'importanza di quello delle istituzioni di ricerca. La seconda invece grande macro opportunità è collegata agli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica, accordi che riguardano l'Unione Europea e di nuovo altri soggetti che possiamo ulteriormente distinguere in due sottocategorie. Vi sono degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica con singoli paesi terzi, la Cina piuttosto che gli Stati Uniti, piuttosto che il Brasile, potrei proseguire, ma vi sono anche degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica che riguardano macro regioni geografiche. Allora in questo caso è da un lato più semplice, in quanto abbiamo un accordo quadro generale all'interno del quale possono essere sviluppate delle iniziative specifiche. Più complicato perché da un lato alcuni accordi sono stati conclusi, altri non ancora. Tra quelli non ancora conclusi il caso più eclatante è quello della Cina. Più complicato anche perché mentre nel caso di Reiso Europe i bandi di finanziamento sono immediatamente pubblicati, quindi con una procedura attraverso questo comitato di programma che consente una immediata pubblicazione, non c'è dubbio che la traduzione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica generale attraverso passaggi successivi, un vero e proprio bando di finanziamento, richiede procedure e tempi più rilevanti. Io mi fermerei qui, a questo stadio intendevo dare solo la cornice all'interno della quale poi si svolgeranno gli approfondimenti di natura macro-regionale, quelli per l'Europa, quelli per l'Africa, quelli per l'America e così via. Naturalmente però resta a vostra disposizione per qualsiasi richiesta di ulteriore informazione, approfondimento o qualsiasi domanda. Grazie. Grazie molto al professor Donato. Chiamerei a questo punto la dottoressa Cristina Binot, addetta scientifica alla rappresentanza permanente d'Italia alle Nazioni Unite a Ginevra. Prego. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio moltissimo per l'organizzazione di questo evento, per questa opportunità di interazione con il mondo della ricerca e innovazione italiana. Allora, io sono il rappresentante, l'addetto scientifico presso le Nazioni Unite e tutte le organizzazioni internazionali scientifiche che ci sono a Ginevra. La Svizzera ospita organizzazioni internazionali da oltre 100 anni, in particolare a Ginevra c'è stato un grosso impulso dopo la Seconda Guerra Mondiale e a oggi ospita 22 grandi organizzazioni internazionali con accordi di sede, fra cui l'Ufficio delle Nazioni Unite, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, il CERN, l'Organizzazione Mondiale del Commercio e molte altre. Otto di queste sono agenzie delle Nazioni Unite, come l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, solo per citarne alcune, ed è con queste che si tessano le relazioni multilaterali. Molte di queste organizzazioni contengono 193 paesi, quindi questo vi dà un'idea della dimensione multilaterale di queste organizzazioni. Ginevra è inoltre sede del Consiglio dei Diritti Umani. Allora, alcune di queste organizzazioni sono tecniche o con connotazione scientifica e tecnologica, sono di queste che mi devo occupare, che devo seguire. Quindi noi partecipiamo alle attività di promozione integrata del sistema italiano, sotto la guida dell'ambasciatore, e in particolare partecipiamo ai lavori di queste organizzazioni e con noi ci occupiamo dell'assistenza alle delegazioni italiane presso gli organismi internazionali. Inoltre ci occupiamo della promozione della scienza e della tecnologia italiana, trasferimento di tecnologie verso le applicazioni industriali e promozione di rapporti economici industriali nel settore delle tecnologie avanzate. L'organizzazione tecnica scientifica più importante di cui mi occupo è il CERN, il più importante laboratorio mondiale di fisica delle particelle, che è unico al mondo sia per complessità prospettive, scientifiche tecnologiche, potenzialità industriali. A questo hanno accesso circa 10.000 scienziati che rappresentano circa la metà del mondo dei fisici delle particelle, circa 1.000 università e più di 100 nazionalità. Di cosa mi occupo? Allora, io sono il rappresentante italiano nel Comitato delle Finanze del CERN, mentre l'ambasciatore e il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Italian sono i rappresentanti nazionali nel Council del CERN e io partecipo al Council in qualità di esperto. L'Italia, insieme all'INFN, partecipa al massimo livello alle sue attività ed è molto importante il ritorno economico per il sistema produttivo italiano grazie alle elevate capacità dell'industria nazionale di partecipare agli esperimenti con prodotti di alta tecnologia. La collaborazione con il CERN è molto proficua. Il nostro compito è verificare che la cooperazione fra l'Italia, in particolare fra l'INFN e le nostre industrie e il CERN prosegue come è stato fino ad ora. Noi siamo presenti a tutti i livelli, non solo nel CERN, come italiani, siamo presenti a tutti i livelli, non solo scientifici ma anche di management. È molto significativa la partecipazione dei studenti italiani che sono tutti molto bravi e vincitori di molte competizioni promosse dal CERN. Ci sono diverse competenze italiane che possono trovare ricadute anche in altri settori, non solo quello standard tecnologico, quindi sto parlando di criogenia, magneti, sistemi di vuoto, ma anche il computing. Questo è un ambito in cui la ricerca e lo sviluppo sono all'avanguardia perché è intrinseco nell'attività di ricerca fisica delle particelle e questo ha un grosso impiego per esempio negli studi di meteorologia. Il ritorno industriale è molto importante nei progetti del CERN sia a livello politico che a livello di opinione pubblica. Noi siamo il quarto contributore al CERN dopo Germania, Inghilterra e Francia e ci aspettiamo quindi che il ritorno per le nostre aziende in termini commesse sia coerente con l'investimento che facciamo e noi qui all'ambasciata lavoriamo per trovare i canali giusti per incrementare la presenza della nostra industria nei progetti tecnologici sviluppati all CERN. Questo avviene anche grazie al lavoro del nostro industrial liaison officer indipendente dell'INFN che lavora al CERN proprio per mantenere i contatti con le industrie. Una grossa opportunità offerta al CERN in questo momento è il progetto di alta luminosità del Large Hadron Collider e la giudicazione delle commesse sta continuando. Il nostro industrial liaison officer ha fatto un ottimo lavoro per individuare i settori industriali che potevano essere più favorevoli per la partecipazione delle nostre aziende. Per esempio, noi italiani abbiamo un know-how nello sviluppo di magneti e superconduttori anche adesso ad alta temperatura e abbiamo ricevuto diverse commesse in questo settore. Per il futuro l'alta luminosità del Large Hadron Collider e il futuro acceleratore FCC potrebbero rappresentare veramente un'ottima occasione scientifica e tecnologica e sono sicura che l'Italia giocherà bene la sua partita in questo terreno molto competitivo internazionale. Come ha detto scientifico però seguo anche molte altre organizzazioni come l'organizzazione della meteorologia quella delle telecomunicazioni agenzia dell'ONU seguo l'IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change sul cambiamento climatico varie organizzazioni che si occupano di ambiente come l'UNEP delle Nazioni Unite e il UCN Unione per la Conservazione della Natura e poi molte altre fra cui le convenzioni CITES, Ramser, Basilea, Rotterdam, Stoccolma, Minamata ultimamente ho cominciato a seguire anche i lavori di GESDA che ha un interessante progetto di istituto per il quantum computing e quello che faccio in questa organizzazione è seguire alcuni progetti di interesse per l'Italia o sponsorizzati dall'Italia tenere i contatti con lo staff italiano poi mi sforzo di capire se l'Italia impiega bene queste organizzazioni con il servo in coordinamento è facile perché c'è questo istituto, l'INFN che aiuta a curare questi contatti nelle altre organizzazioni questo manca il quadro è un po' meno chiaro ma è sicuramente possibile promuovere ulteriori cooperazioni con i nostri enti di ricerca, con le nostre università e magari anche con le industrie in conclusione e penso che dobbiamo impegnarci per superare un po' l'attitudine di guardare soltanto le relazioni con Bruxelles o con l'Unione Europea perché da lì possono arrivare fondi ovviamente molti fondi arrivano anche dal CERN molto meno dalle altre organizzazioni internazionali però non essendo, non sono fonti di grandi finanziamenti però sono un'ottima vetrina molto efficace per presentare a livello internazionale le nostre capacità per esempio l'UIT l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni è un ente che rilascia standard e bisognerebbe sfruttare queste opportunità per imporre del know-how già in possesso di nostre industrie dopo due anni di addetto scientifico a Ginevra posso dire che le capacità di noi italiani sono tante e di alto livello e c'è ancora spazio per incrementare le occasioni di cooperazione tra il nostro paese e le organizzazioni internazionali e per valorizzare le nostre risorse che hanno una robusta base scientifica e tecnologica e con questo direi che posso concludere la mia presentazione Grazie molto dottoressa Bino grazie davvero a questo punto darei la parola alla professoressa Cubellis addetta scientifica alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'UNESCO a Parigi prego Buongiorno a tutti e come i precedenti colleghi volevo in primo luogo ringraziare per questa organizzazione e portare anche i saluti del mio ambasciatore Stellini dunque io sono sul multilaterale e sono all'UNESCO e in particolare sono in servizio da poco tempo e quindi diciamo sarà molto breve perché la mia esperienza è veramente ancora molto limitata e diciamo una cosa che mi è sembrata veramente molto utile per il mio lavoro devo dire è stata il fatto che proprio pochi giorni dopo che io sono arrivata in sede c'è stata questa riunione a Padova degli esperti e quindi volevo sottolineare il fatto che si è creata effettivamente una rete tra di noi che ci consente di lavorare meglio perché ci sono effettivamente degli aiuti reciproci che avvengono in tempo reale e quindi volevo ringraziare in particolare alcuni colleghi che mi hanno già aiutato moltissimo e quindi io lavoro presso l'UNESCO lavoro presso l'UNESCO e diciamo mi occupo del settore scienza dell'UNESCO e proprio in questi giorni si è svolto il consiglio esecutivo dell'UNESCO e qui ho potuto vedere con mano insomma diciamo quali erano le nostre la mia particolare possibilità di contribuire ai lavori e essenzialmente diciamo noi in questo caso abbiamo avuto la possibilità di intervenire su due settori particolari che riguardano il mare e riguardano il settore acqua in particolare per quanto riguarda il mare c'è stata la possibilità da parte dell'Italia di votare favorevolmente ad un aumento di budget per la commissione oceanografica internazionale intergovernativa e diciamo per fare questo io mi sono personalmente confrontata molto con alcuni enti di ricerca italiani e in particolare con il CNR e con l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia e penso che sia stata una cosa utile perché anche se in questa fase noi dovevamo solamente diciamo così proporre un aumento di budget per il settore della ricerca oceanografica in realtà poi a giugno ci sarà invece il consiglio esecutivo proprio dell'ente che si occupa dello IOC che si occupa di ricerca oceanografica però comunque abbiamo potuto cominciare a mettere in rilievo l'importanza che l'Italia può avere nel settore del Mediterraneo che è diciamo data l'organizzazione che c'è all'UNESCO che divide i paesi in una certa maniera per cui diciamo nel caso della ricerca nel Mediterraneo noi ci troviamo ad avere che il Mediterraneo ovviamente essendo un mare che bagna tre continenti non viene considerato come una entità unica ma ci sono i paesi del primo settore che sono quelli a cui noi apparteniamo cioè quelli europei e nordamericani poi ci sono i paesi dell'Africa poi ci sono separatamente i paesi asiatici invece insomma diciamo abbiamo cercato di far passare l'idea che il Mediterraneo deve essere considerato nel suo insieme e questo penso che per l'Italia sia un aspetto molto importante visto che l'Italia può svolgere un ruolo di leader in quest'area geografica e poi l'altro aspetto molto importante è stato quello di difendere l'investimento che l'Italia fa con un programma per la valutazione dell'utilizzazione dell'acqua che si chiama UAP ed è un centro che si trova a Perugia abbiamo visto con mano quanto è stato importante prendere informazioni e dare il supporto scientifico all'ambasciatore perché potesse difendere il rilievo che questo programma italiano a livello dell'UNESCO e potenzialmente anche delle Nazioni Unite quindi queste sono le cose delle quali più immediatamente mi sono interessata e poi un altro aspetto importante che è abbastanza trasversale perché diciamo io mi dovrei occupare non solo di scienze diciamo tra virgolette scienze esatte, scienze sperimentali ma anche di scienze umane e quindi diciamo ci sono due aspetti uno che è un po' già nello stato avanzato ed è quello che delle raccomandazioni per la scienza aperta in cui dovrò seguire un po' anche la fase di report che è richiesta all'Italia bisogna capire quanto l'Italia sta rispondendo alle raccomandazioni sulla scienza aperta dell'UNESCO che peraltro insomma anche a livello europeo è un tema che viene molto sentito e quindi diciamo è una cosa a cui dobbiamo stare molto attenti perché credo che diciamo l'Italia si dovrà adeguare a queste nuove regole anche perché i finanziamenti per la ricerca oggi richiedono di seguire certe prassi riguardo all'apertura dei dati alla interoperabilità dei dati eccetera e invece c'è un fatto nuovo che riguarda le neurotecnologie e in questo caso le raccomandazioni si dovranno fare e quindi diciamo su questo aspetto io spero di poter coinvolgere di poter coinvolgere le persone che si occupano di questo tipo di aspetti in Italia in modo tale che noi possiamo diciamo essere molto molto propositivi per queste nuove per queste nuove raccomandazioni l'altro aspetto di cui mi dovrei occupare anche se lì le raccomandazioni sono già state fatte riguarda l'intelligenza artificiale che pure è un tema abbastanza scottante e per il resto diciamo le altre cose delle quali mi dovrei occupare è la difesa dei geoparchi cioè voglio dire quello che riguarda la presentazione dei geoparchi le candidature per i geoparchi e per i parchi diciamo i parchi naturali quindi questo è il mio campo di azione io sto cercando diciamo una cosa anche molto positiva è stata quella che c'è stata la possibilità anche di un dialogo abbastanza diretto con gli uffici di Roma e quindi diciamo un po' per rendere un po' più spedite questi contatti un po' più spedite la comunicazione tra le sedi, tra Parigi insomma diciamo e Roma in modo da poterci coordinare più rapidamente per poter intervenire su situazioni situazioni insomma che possono essere di interesse del paese e però ovviamente insomma l'UNESCO è una situazione molto particolare quindi diciamo molto diverso da quello che può essere un bilaterale ma quello che sento anche rispetto ad altri multilaterali quindi resto a vostra disposizione se ci fossero domande ma immagino che a questo punto posso fermarmi qua con la mia diciamo con il mio contributo grazie molte professoressa Cubellis grazie a voi grazie e darei a questo punto la parola per l'ultimo intervento di questa sessione al professore Alessandro De Angelis addetto scientifico alla rappresentanza permanente d'Italia presso le organizzazioni internazionali a Parigi buongiorno a tutti si sente bene? sì grazie allora inizio ringraziando il MAECI non solo per l'organizzazione di questo evento ma in generale per il fatto che le risposte che arrivano dal MAECI sono 99 volte su 100 pronte e precise e poi saluto i colleghi da Parigi qui a Parigi ci sono numerose organizzazioni scientifiche non ho tempo di parlare di tutte non ho tempo in realtà di parlare di alcune tra le più interessanti che non hanno proprio un aspetto diretto di impatto sulla ricerca e l'innovazione italiana e soprattutto mi concentro sull'Ocse e le agenzie collegate perché l'Ocse e le agenzie collegate hanno un grosso potenziale di interazione e di possibilità di fornire servizi lavoro, cose utili in generale per la ricerca e l'innovazione io prima di venire qui avevo un'idea molto riduttiva e incompleta di che cosa fa l'Ocse e qual è il suo potenziale nel campo ricerca e sviluppo allora ci sono due versi della direzione in cui l'Ocse può interagire con ricerca e innovazione e in entrambi potremmo fare di più per valorizzare l'investimento che l'Italia fa un verso è che l'Ocse produce argomenti che forniscono input a ricerca e a innovazione per esempio per riferirsi agli app PNRR voi sapete che l'Italia ha concentrato un miliardo e sei dei finanziamenti di ricerca e sviluppo dei PNRR su cinque temi principali ma è di almeno quattro l'Ocse si occupa in modo molto avanzato attraverso la divisione che si chiama proprio scienza, tecnologia e innovazione i sottodivisioni che si occupano di ambienti, di collegati che si occupano di trasporti che si occupano di trasporti di agricoltura eccetera una delle mie sorprese una cosa che non sapevo quando sono venuto qui e che invece adesso ho scoperto e che è stata recentemente valorizzata è il fatto che l'Ocse fa anche della ricerca di punta in alcuni settori in particolare sull'intelligenza artificiale in particolare la ricerca tecnica viene studiata viene fatta in relazione ai possibili effetti sul copyright sul bias che sono degli argomenti molto interessanti per l'Italia noi parliamo una lingua che non è diffusissima allora il bias dell'intelligenza artificiale potrebbe farci del male potrebbe nuociarci potrebbe portare a posizioni dominanti che si rafforzano sempre di più proprio due giorni fa tre giorni fa nel documento comunicato dei leader del G7 a Hiroshima era citato proprio nel punto 38 il fatto che il G7 deve porre vincoli agli algoritmi generativi come c'è il GPT basando si dice proprio sul lavoro dell'Ocse e in particolare di un sottocomitato che si chiama GPI che è un piccolo sottocomitato quindi in qualche modo questo mi ha fatto piacere perché vuol dire che da qualche parte c'è qualcuno che segue una ricerca che è avanzata in collaborazione con l'università e con il centro di eccellenza in particolare c'è un aspetto tecnico e poi un impatto particolare tipo la diffusione delle lingue e queste cose qui che poi a loro volta hanno dei riflessi sulla ricerca e sullo sviluppo un altro aspetto in cui io non conoscevo a fondo la potenzialità dell'Ocse deriva da un ente collegato che si chiama Nuclear Energy Agency che fa due cose molto utili una è il confronto fra diverse proposte in ottica multilaterale quindi se l'Italia un giorno deciderà di tornare a nucleare probabilmente un'esplorazione multilaterale può avere senso per capire quelle proposte convengano e poi ha dei grossi esperti che fanno ricerca nel campo dei dati nucleari soprattutto relativi alla radioprotezione quindi sicurezza e alla gestione dei rifiuti che comunque anche se li devono entrare a nucleare sono gli argomenti che hanno dei riflessi anche sulla ricerca e sull'innovazione nel senso che i radiofarmaci la gestione dei rifiuti medici comportano dei problemi legati alla ricerca quindi questo può servire da input a ricerca e innovazione italiana non so quanto questo input sia verificato efficace non ci sono grandi strumenti di verifica ci sono invece strumenti di verifica per l'altro verso cioè come noi possiamo ascoltare degli input della ricerca e dello sviluppo italiano in particolare gradiremmo ricevere degli input per la definizione degli standard affinché questi standard non privilegiano i grandi player per esempio nel campo delle telecomunicazioni per esempio in altri campi in cui ci sono delle nazioni che sono molto più attive nell'interazione con OX e enti collegati di quanto non lo sia l'Italia in generale l'interazione sia con Roma quindi con i ministeri sia con la ricerca e lo sviluppo è a macchia di leopardo cioè ci sono dei settori attivissimi e dei settori meno attivi sospetto che una delle cause sia la scarsa comunicazione e parte della scarsa comunicazione chiaramente è dovuta all'OX e parte è dovuta probabilmente anche a noi quindi diciamo una richiesta che farei è una maggiore comunicazione come l'evento di oggi dovrebbe fare tra quello che possiamo fare e gli attori principali di stakeholder che qui si usa molto di queste trasformazioni per cui questo è quello che volevo dire per il resto resto in ascolto se qualcuno mi scrive gli rispondo se qualcuno mi telefona gli rispondo al telefono grazie 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 mille anche ad Alessandro De Angelis per questo intervento che chiude la prima sessione di questa due giorni di incontri con le addette e gli addetti scientifici e a questo punto facciamo una piccola pausa se la consigliera è d'accordo per iniziare alle ore dieci in punto come da programma la seconda sessione dedicata all'Africa consigliera chiedo a lei semplicemente l'ok per procedere in questo senso perfetto grazie grazie